Ciao amici, dopo i primi 76 km proviamo a fare il punto di questa Samebike o Sambike poi diciamo ma un po' contagiato sulla pronuncia quindi dicevamo su questa Sambike Thunderbird Plus allora, vi faccio un'osservazione subito e cioè, rispetto alla percorrenza che segna il tachimetro della bici in realtà la stessa percorrenza misurata con Strava che è più preciso in quanto utilizza il GPS è del 10% in più cioè, in effetti non facciamo realmente il percorso fatto non è realmente di 76 km ma è 76 più il 10% in più quindi più altri 7,5 km grossomodo poi, altra osservazione interessante è che i dischi se vi ricordate all'inizio vi ho detto che i dischi erano poco performanti cosa che confermo però sono leggermente migliorati quindi magari era dovuto al fatto che le pastiglie ancora erano nuove così come i dischi adesso si sono un po' assestate quindi frena un pochino meglio poi, altra cosa, autonomia considerate che 76 km di tachimetro che però dovrebbero corrispondere ad oltre 83 km hanno esaurito i 5 sesti della batteria utilizzata sempre e completata assistita almeno ad uno più giocate a 5, 4 e alcuni tratti anche con assistenza 3 questo ve lo dico perché adesso la metto sotto carica e il prossimo giro che farò sarà di oltre 100 km quindi lo organizzerò, lo gestirò con a pedalata assistita almeno ad uno e poi vediamo a seconda della distanza proverò a incrementare un po' l'assistenza per capire qual è la durata effettiva della batteria e che percorrenza ci permette di raggiungere con una carica completa altri problemi da segnalare nessuno se non che i parafanghi non sono il massimo per andare in giro perché non sono rigidissimi quindi se facciamo dei piccoli salti prendiamo delle buche importanti toccano il copertone e rischiano di rompersi quindi è per questo motivo che li ho tolti però come vedete ho lasciato il telaietto in maniera tale che rimontarli è un'operazione abbastanza veloce nient'altro da aggiungere come al solito se avete dubbi commentate e provo a soddisfare ogni vostra richiesta ciao a tutti ciao a tutti